Becos Lift Evolution trattamento globale contorno occhi in confezione da 20 ml è un prodotto che grazie al suo pool di attivi come Uplift, Fix Lift e Seart 1 leviga lo sguardo e ne ricompatta il contorno in quanto è un trattamento lifting per eccellenza in più è adatto anche per borse quindi le va a drenare e se ci aiutiamo con un bel massaggio è anche meglio va fatto assorbire con un bel massaggio e dopo utilizzare la vostra crema viso abituale